Attenzione attenzione incredibile notizia per quanto riguarda il mondo delle criptovalute per quanto riguarda la fiscalità delle criptovalute seguite con attenzione questo video perché qualche giorno fa per l'esattezza due giorni fa è stata redatta una bozza della legge di bilancio 2023 che arriverà a regolamentare le attività effettuate all'interno del mondo delle criptovalute quindi il trattamento fiscale delle criptovalute dove fino adesso diciamo che c'era un'interpretazione a quella che erano vecchie leggi ma finalmente si potrà avere una legge ufficiale naturalmente una notizia ufficiale ma nello stesso tempo è solo l'inizio del leader che poi arriverà definitivamente a redare quella che sarà la poi la legge ufficiale quindi da questo punto di vista dobbiamo attendere ma nel video di oggi cercheremo di capire all'interno di questa bozza di legge che cosa c'è e che cosa dobbiamo fare vi ricordo tra le altre cose che qui sul nostro canale abbiamo già pubblicato delle notizie relative al mondo della fiscalità delle criptovalute abbiamo pubblicato dei video abbiamo un servizio per dichiarare le criptovalute naturalmente rimane tutto come fino alla fine del 2022 almeno fino alla fine del 2022 e quindi vi dico già in anticipo ricordatevi che voi dovete dichiarare le criptovalute se non l'avete fatte e quindi se non avete dichiarato le criptovalute e potenzialmente non avete dichiarato le tasse da pagare rischiate sanzioni quindi recuperate i vecchi video e in descrizione vi metteremo anche il nostro servizio il link al nostro servizio che vi permetterà di avere un fiscalista un commercialista che farà questo direttamente per voi naturalmente prima di andare avanti vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdere altri contenuti come questo e vi ricordo anche di seguirci all'interno del nostro canale telegram dove pubblicheremo notizie come queste in tempo reale in modo tale da non rimanere mai indietro perché il mondo delle criptovalute è un mondo veloce e un mondo che potrebbe riprendersi anche da un momento all'altro questo non è dato a sapersi e quindi di conseguenza rimanete vigili sul mercato detto questo andiamo ad analizzare appunto questa legge questa bozza che è stata creata e cerchiamo di capire quindi quali saranno le novità allora abbiamo fatto un piccolo recap abbiamo voluto riprendere un email che abbiamo ricevuto dal comitato di ftx vi ricordo che in italia è stato creato un gruppo telegram dedicato a ftx dove in questo gruppo stanno cercando naturalmente di portare avanti quella che sarà una class action contro ftx per recuperare i fondi inserisco il link in descrizione e naturalmente questa legge di bilancio esce fuori dopo tutto quello che è stato il patatrack di quest'anno tra cui ultimo ftx diciamo che probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché comunque c'è bisogno di regolamentazione questo l'abbiamo capito e allora da questo punto di vista vediamo un po quello che succederà quindi questo è solo un piccolo recap poi magari realizzeremo direttamente un video con un commercialista che ci spiegherà meglio tutto quanto e ci aggiornerà naturalmente sulle novità ricordiamo che questa quindi è solo una bozza ma considerate che potenzialmente dal 2023 saranno tassate le plus valenze provenienti dalle criptovalute verrà introdotta per la prima volta anche un'imposta di bollo le plus valenze vengono inteso naturalmente se recuperate i vecchi video capirete tutto vengono intese nel momento in cui io compro delle cripto a 1000 euro quindi compro oggi bitcoin a 15.000 le vendo tra un anno vendo i miei bitcoin tra un anno a 30.000 faccio 15.000 euro di guadagno quella è la plus valenza quindi io non pagherò sui 30.000 la mia tassa della mia plus valenza ma li pagherò su 15.000 ok nel caso in cui invece compro bitcoin a 15.000 ma lo rivendo a 12.000 non devo pagare nulla però le devo dichiarare ok per lo stato le criptovalute diventano attività finanziarie inserite nella definizione di redditi diversi del tour ora io non entro nel dettaglio di termine e quant'altro perché questo è solo un video di aggiornamento poi magari se avete dubbi o domande lasciate anche dei commenti ma faremo dei video appositi la tassazione sulle plus valenze della vendita fissata al 26 per cento come per le tradizionali attività finanziarie ma con la possibilità di versare un'imposta sostituita sostitutiva fissata al 14 per cento dal valore dell'asset così come valutato dal mercato il primo gennaio 2023 quindi diciamo che generalmente la plus valenza che si va a pagare negli altri delle altre tipologie di investimento tipo le azioni è del 26 per cento quindi se io alla fine ho guadagnato 10.000 euro pagherò 2.600 euro ma con la possibilità però che in questo caso nelle cripto che posso andare a versare un'imposta sostitutiva fissata al 14 per cento quindi su 10.000 sono 1.400 fiscalmente rileveranti le plus valenze sotto i 2.000 euro quindi chi ha 100 o 200 euro di cripto non si deve preoccupare questo è importante ma questa è linea generale per qualsiasi cosa in teoria comunque sarebbe sempre giusto dichiarare tutto ragazzi questo lo specifico perché poi magari qualcuno capisce altre cose no ok quindi introduzione della detrazione delle minus valenze dalle eventuali plus valenze future quindi cosa vuol dire vuol dire che essenzialmente se io l'anno prima sono andato in perdita e l'anno dopo sono andato invece in guadagno io posso andare a rimuovere dalle plus valenze quelle che sono state le minus valenze che ho avuto quindi diciamo dei investimenti dei cattivi investimenti che vanno a ridurre poi le tasse che andrò a pagare definizione chiara di cosa si intende per la plus valenza e come si calcola quindi da questo punto di vista capiranno spiegheranno dettagliatamente tutto che è importante perché quando fanno le le leggi e poi non spiegano ogni volta bisogna interpretarle e non va mai bene onere di documentazione rendi contazione capo al contribuente delle operazioni fatte quindi vuol dire che tu che investi in cripto hai l'onere di documentare e rendi contare in tutto quello che hai fatto non deve essere lo stato a chiedertelo ma lo devi fare tu ok imposta di bollo sul valore degli asset detenuti la riscossione in questo caso è delegata all'agenzia delle entrate che dovrà intervenire definendo le modalità dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio quindi non sappiamo di quanto sarà questa imposta lo vedremo successivamente per far emergere capitali derivanti quindi infine per far emergere capitali derivanti alle criptovalute che non sono stati dichiarati al fisco prima del 31 dicembre 2021 con un'imposta del 3,5% sul totale dei redditi realizzati in aggiunta a uno 0,5% su ogni anno trascorso dall'acquisizione delle criptovalute anche per chi non ci ha guadagnato niente la valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo di imposta sarà effettuato secondo specifici regolamenti che dovrà emanare la consob ovviamente va sempre dimostrata la liceità della provenienza di tutte le somme quindi vuol dire che se voi non avete dichiarato cripto fino al 31 dicembre 2021 quindi prima del 31 dicembre 2022 avete la possibilità di poter pagarle con queste percentuali ripeto non voglio entrare troppo nel dettaglio da questo punto di vista perché chiariremo tutto con un commercialista esperto e soprattutto quando avremo novità per quanto riguarda questa legge di bilancio che è una bozza ma che comunque le bozze possono essere modificate e poi spiegate a 360 gradi quindi questo è quello che sta accadendo fateci sapere cosa ne pensate se è una cosa che vi aspettavate oppure no se vi fa piacere oppure no detto questo il mondo delle cripto che doveva essere totalmente decentralizzato tutto quello che volete abbiamo visto che comunque da questo punto di vista non è ancora maturo a 360 gradi e quindi probabilmente ha bisogno di una regolamentazione questi sono dati di fatto ragazzi perché se no abbiamo tutte le percentuali migliori di questo mondo possiamo fare tutte le cose belle di questo mondo ma poi perdiamo i nostri asset perché vanno a zero in progetti che sembrano i migliori progetti della storia o in exchange che sembrano i migliori exchange della storia e quindi a questo punto meglio naturalmente avere comunque una regolamentazione ma vedremo il tempo ci darà ragione oppure ci darà torto su quello che abbiamo appena detto ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto